il giorno dello sciopero generale della formazione professionale mondello sia le cabine in spiaggia a bagheria i lavoratori extemporari hanno occupato la chiesa madre ben trovati a questa nuova edizione di media news oggi lunedì 12 maggio oggi è il giorno dello sciopero dei lavoratori della formazione professionale i dipendenti sono tornati in piazza anche a palermo per chiedere risposte al governo regionale sono circa 10 mila i lavoratori del settore in sicilia da mesi senza stipendi oggi è il giorno dello sciopero generale della formazione professionale anche la città di palermo ha preso parte alla grande mobilitazione alle 10 da piazza marina è partito un lungo corteo che ha raggiunto piazza indipendenza davanti palazzo d'orlean la manifestazione è stata organizzata dai sindacati di categoria fiel ccgl cis scuola e will scuola i lavoratori chiedono soluzioni straordinarie di pagamento delle retribuzioni arretrate l'istituzione del fondo di garanzia previsto dalla legge regionale 10 del 2011 l'attivazione dei progetti del ciapi per il reimpiego del personale una riforma condivisa dei servizi per l'impiego e formazione professionale massiccia la partecipazione alla manifestazione alla quale hanno preso parte anche alcune delegazioni di lavoratori delle altre province siciliane chiediamo ribadiscono ancora una volta i sindacati un intervento su tutte le emergenze del settore compresi gli enti definanziati dagli accreditamenti revocati post in liquidazione all'apertura di un confronto specifico tra governo sindacati e gruppi parlamentari dell'assemblea regionale siciliana per lo sblocco immediato delle retribuzioni arretrate e l'individuazione di tutte le opportune soluzioni ancora sbarchi sulle coste siciliane la struttura di accoglienza di trapani dove nelle ultime ore sono sbarcati altri 423 migranti e al collasso intanto la polizia ha fermato due presunti scafisti continuano e si fanno sempre più massicci gli sbarchi di immigrati nelle coste siciliane nelle ultime ore la polizia di ragusa ha fermato due presunti scafisti dell'imbarcazione con a bordo 233 siriani soccorsa da una nave della marina militare italiana arrivata due giorni fa nel porto di pozzallo si tratta di due tunisini che avrebbero ricevuto un compenso di 6.000 euro ciascuno per il viaggio intanto altri 423 migranti di nazionalità siriana somala eritrea e nigeriana sono giunti al porto di trapani a bordo del pattugliatore della marina militare sirio tra i profughi anche 65 minori di cui 23 sotto i tre anni 45 donne di cui sei incinte e un uomo in sedia a rotelle le imbarcazioni sulle quali viaggiavano erano tutte fatiscenti adesso saranno ospitati nelle strutture di accoglienza di marsala castelvetrano castellammare del golfo salemi e trapani proprio in quest'ultima città però l'emergenza è più grande che mai stiamo battendo ogni record ha detto il prefetto leopoldo falco ribadendo l'impossibilità di far fronte con una sola commissione alle migliaia richieste per il riconoscimento dello status di rifugiato cambiamo argomento e parliamo di elezioni europee l'impegno per l'ambiente l'amore per gli animali e il reinserimento sociale dei detenuti che finiscono di scontare la propria pena con queste motivazioni maria luisa desimone ha deciso di correre con la lista green italia verdi europei per il rinnovo del parlamento di strasburgo il motivo che mi spinge che mi ha spinto a candidarmi è quello per il rispetto per la natura quindi un'un'europa pulita un'europa verde l'obiettivo fondamentale è quello il rispetto dell'ambiente rispetto della natura rispetto degli animali rispetto delle persone che non hanno voce il mio obiettivo è quello di costruire un grande centro di accoglienza per i poveri angeli come li chiamo io le povere bestie che trovo per strada fino ad oggi non ho avuto luogo dove poterle accudire le ho portate a casa mia ma da oggi in poi vorrei che queste avessero un posto dove poter essere accolte e custodite nel frattempo vorrei aiutare gli ex detenuti della casa circondariale paierelli che una volta usciti dalla dalla casa circondariale non trovano lavoro perché purtroppo non si trovano alle condizioni di poter ritornare a lavorare con tutto che hanno grandissima volontà quindi in questo grande terreno che mi aspetto che mi auguro possa ricevere e penso anche che loro possano possono lavorare e possano ritornare a fare una vita normale di tutto il rispetto ancora elezioni europee abbiamo ascoltato il giornalista Antonio Mazzeo candidato nella lista l'altra Europa con Tsipras queste elezioni europee sono fondamentali tutto quello che si decide in Europa che si decide a Bruxelles ha delle ricadute enormi sulle nostre vite sulle nostre condizioni di accesso all'acqua di accesso al lavoro di accesso ai diritti alla salute proprio per questo bisogna andare a votare e bisogna andare a votare per una forza di sinistra che rimette in discussione il rapporto delle banche come oggi condizionano la nostra vita e come stanno condannando sempre più persone milioni di persone in Europa alla fame proprio contro questo modello bisogna andare bisogna impedire che l'Europa firmi questo maledetto trattato di libero commercio con gli Stati Uniti che sarebbe la fine per i produttori siciliani si farebbe un'invasione dei mercati di prodotti agricoli o industriali statunitensi che cancellerebbe le produzioni agricole proprio per questo ha un senso proprio per questo dobbiamo dare speranza a chi chiede speranza queste elezioni purtroppo sono elezioni in cui le libertà vengono sempre messe in crisi e soprattutto il modello di Europa che sta passando è un ulteriore giro di vita alla libertà di espressione a libertà di giudizio proprio in difesa di quella libertà della Costituzione io credo che bisogna spendersi per impedire che nei prossimi anni si torni a una forma di dittatura presente sulla vita e sulle coscienze delle persone. Alice Anselmo parlamentare regionale di articolo 4 all'Ars e il nuovo segretario nazionale di Vox Populi movimento etico politico fondato e presieduto da Lucia Pinzone ex candidata alla presidenza della regione. Due anni di attività politica all'interno dell'Ars ma soprattutto fra la gente dichiara Anselmo mi hanno mostrato inequivocabilmente come i cittadini avvertano la necessità di essere rappresentati da qualcuno che ascolti le loro istanze e su queste modelli su questo modelli la propria attività non è più tempo di autorreferenzialità degli abitanti dei palazzi della politica bisogna imparare a dare le risposte giuste alle domande vere quelle che riguardano la vita di tutti tutti i giorni. Una petizione popolare per chiedere la riapertura dei parco Cassarà dopo la recente chiusura a seguito del ritrovamento di pericolosi residui di Amianto. A proporla sono i Verdi che hanno già raccolto numerose firme. Ascoltiamo il coordinatore regionale del partito Carmelo Sardegna. L'ultima iniziativa è una petizione popolare per chiedere la riapertura del parco Nini Cassarà. Sì perché noi Verdi ma comunque con delle associazioni eccetera abbiamo fatto una prima petizione due anni fa circa assieme all'associazionismo mobilità Palermo e ad altre persone spinti dagli abitanti di zona medaglie d'oro via Ernesto Basile che volevano avere uno spazio un polmone dove avere un minimo di dignità cittadina. Allora abbiamo raccolto le firme l'abbiamo fatto riapire perché è un parco che è stato inaugurato l'indomani chiuso un parco che è costato 11 milioni e mezzo di euro ufficiali ma in effetti è costato circa 16 milioni di euro. Siamo riusciti a farlo riaprire ed è stato bellissimo perché in questi mesi aveva assunto un aspetto, una fisionomia veramente di grande parco urbano per cui siamo orgogliosi. Purtroppo hanno trovato l'amianto. L'amianto ha un po' spiazzato tutti. Io penso che anche il sindaco Orlando si sia trovato demoralizzato perché insomma sono cose fatte dall'altra amministrazione e quindi abbiamo rilanciato, spinti dagli sportivi, dalle associazioni di sportivi e dai genitori, dai nonni. Mi ha detto un nonno per favore, professore, quando era ancora professore, lo riapro perché io non voglio, voglio pensare che mio nipote ci può andare, non che ci andrà il nipote di mio nipote. È stato riaperto, ci hanno richiamato, stiamo facendo questa petizione. È una petizione che va nel segno della concordia, della riapertura perché è un polmone verde bellissimo, meraviglioso che sta rinascendo. Allora abbiamo avuto un casuale incontro con il nuovo assessore al verde che è il professor Francesco Maria Raimondo con cui ci incontreremo in questi giorni perché gli consegneremo più di un migliaio di firme raccolti in soli quattro giorni all'interno del giardino inglese. Cambiamo argomento, incidente mortale in via Berlinguer a Carini, un giovane di 29 anni, Ivan Augello, palermitano, è morto. Si trovava a bordo di una motocicletta Yamaha che si è scontrata con un ciclomotore Piaggio. Le due moto sono state sequestrate perché, senza assicurazione, i rilievi sono stati seguiti dai carabinieri e dai vigili urbani. Arrivano 50 nuovi agenti al carcere Pagliarelli di Palermo. La misura è stata presa con un provvedimento d'urgenza dopo l'evasione di Valentin Frocai, 36 anni, l'ergastolano albanese fuggito dall'istituto di sicurezza mercoledì pomeriggio. L'uomo che ha 36 anni e scontava una condanna a vita per omicidio, rapina ed estorsione, è tuttora ricercato. Gli agenti che provengono da altre sedie e sono stati distaccati nel capoluogo dovrebbero arrivare al Pagliarelli già nella prossima settimana. Mondello, sì alle cabine in spiaggia, ma la società Italo-Belga pagherà la concessione edilizia. Mondello, cabine in spiaggia sì, ma solo previa concessione edilizia. E questa la novità che arriva sul fronte della stagione balneare nella borgata marinara di Palermo. Questo infatti è ciò che prevede il provvedimento predisposto dal Comune di Palermo. Il documento dovrebbe arrivare in Consiglio Comunale dopo l'illustrazione odierna alla Commissione Attività Produttive di Sala delle Lapidi. L'amministrazione sta mettendo a punto i parametri per inserire cabine e pedane con tabelle e tariffe che per il momento sostituiranno il piano d'uso del demanio. Dall'amministrazione comunale fanno presente che dopo i recenti problemi la soluzione potrebbe arrivare in poco tempo. Siamo addirittura ad arrivo, dice l'assessore alle attività produttive Giovanna Marano. È una materia talmente delicata che coinvolge più rami dell'amministrazione ed è chiaro che ci muoveremo quando il procedimento sarà definito in tutti i dettagli. La Commissione ha tutto l'interesse a risolvere il problema, dice il presidente Paolo Caracausi. Lunedì acquisiremo i pareri degli uffici dei vari assessorati impegnati. Il problema è il pagamento degli oneri che riguarda non solo l'Italo-Belga ma anche vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanze e aeronautica e tutti coloro che hanno lidi o svolgono attività tra Mondello, la daura e il resto della fascia costiera. Il quinto congresso regionale della Wilka, il sindacato dei lavoratori del credito delle assicurazioni e delle sattorie svoltosi a Palermo alla presenza del segretario generale Massimo Masi, ha eletto Gino San Marco alla carica di segretario generale Wilka Sicilia. La Wilka Sicilia, dichiarato San Marco in pochi anni, è diventata punto di riferimento dei lavoratori bancari per la competenza, la professionalità, la passione di tutto il quadro dirigente Wilka. Ciò ci ha portato ad essere sempre più vicini agli iscritti in questo delicato periodo di crisi occupazionale e rinnovo contrattuale. Bancari non banchieri, conclude San Marco, sempre più stressati da pressioni commerciali e ritmi insostenibili, mentre i top manager, vera casta dell'Italia, responsabili di scelte sbagliate, vengono pagati anche 62 volte più di un impiegato. È partita oggi a Palermo la raccolta e la firma delle speciali cartoline che saranno inviate in massa al Presidente del Consiglio, Renzi, dagli anziani e i pensionati del territorio palermitano, così come nelle altre città italiane, nell'ambito della campagna nazionale Non stiamo sereni, promossa da sindacati dei pensionati di CGL, Cisle e Wil. Il primo appuntamento stamattina si è svolto in piazza Giulio Cesare a Palermo davanti all'ufficio Tributi, il secondo invece fissato per domani, martedì 13 maggio in piazza Massimo accanto al teatro e infine mercoledì 14 maggio la raccolta si concentrerà dalle 9 alle 13 a piazza Politeama. Fra i punti della piattaforma rivendicativa dei sindacati dei pensionati ci sono il lavoro, lo sviluppo e l'occupazione. Salvo Lipari è stato eletto all'unanimità Presidente regionale dell'Arci dal Consiglio regionale dell'Associazione. 48 anni, impiegato già Presidente di Arci Palermo, succede ad Anna Bucca che ha guidato l'Associazione per ben otto anni. Ci fermiamo adesso per una seconda pausa pubblicitaria, a tra poco. A Bagheria i lavoratori extemporari hanno occupato la Chiesa Madre, l'appello di Padre Giovanni Lamendola. Rivolgo un appello ad attenzionare le esigenze di questi padri di famiglia. Vogliono lavorare, semplicemente lavorare. Hanno avuto tante promesse, hanno purtroppo la coscienza di essere traditi. Tante promesse non mantenute o dilazionate nel tempo e ultima addirittura quasi suona come tradimento nei loro riguardi. Estrema Razio adesso vogliono occupare per la seconda volta alla Chiesa Madre, che è simbolo dell'identità bagherese. Hanno la nostra comprensione. Per favore, almeno ascoltateli. Faccio appello alle autorità competenti, a tutte le autorità completenti, ad ascoltare le loro ragioni e, se possibile, dare concreti sbocchi di speranza. Questa è la speranza, per favore. Non facciamo morire la speranza. Questi giovani, questi padri di famiglia, vogliono soltanto lavorare, dare pane ai loro figli per un lavoro che vogliono avere perché l'hanno e non lo vogliono perdere. Auguri di buona speranza a tutti. Sono arrivati stamattina a Palermo, all'ospedale pediatrico di Cristina, a bordo dell'Ape colorata. I volontari dell'associazione Colora la tua vita, impegnati in diverse regioni con il loro Smile Tour a sostenere le associazioni e gli ospedali che combattono la fibrosi cistica, una malattia genetica ereditaria che colpisce un bambino ogni 2.500. Il progetto nasce in memoria di Denise Gallesio, una ventenne piemontese morta il 9 maggio del 2010 che ha espresso il desiderio di colorare la vita dei pazienti attraverso iniziative che aiutino la lotta alla fibrosi. Lo Smile Tour coinvolge 20 volontari dal 10 maggio all'8 giugno con tappe nei più importanti ospedali pediatrici italiani. Si concluderà mercoledì prossimo a Ustica la prima stagione di ASP in piazza, manifestazione su prevenzione e promozione della salute organizzata dall'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Sarà la dodicesima tappa di un percorso che ha portato la carovana itinerante in città e provincia, oltre che a Lampedusa e Linosa. Sono state finora circa 15.000 le prestazioni effettuate. Con questa notizia è tutto, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro notiziario. Arrivederci. Arrivederci.